Oh, l'unica cosa di Pupu che gli si può dire, cavoloì, non è Pupu, i capelli, i capelli, i capelli, sempre così, l'ha rigallato, lui si fa la doccia, viene fuori dalla doccia, il capo è sui mobili, e si mette un stucco. Ma perché non è mai stato stanco nella sua vita? Aveva madre natura da parte sua, aveva due gambe, però lavorava, a 40 anni, continuava a correre, si allenava sempre bene, sempre col sorriso, hai detto bene, l'uomo integro, una persona favolosa, veramente. Lì, la benda è tutto, non ciò d'acrimento.